Napoli ora sei la mia casa anche tu e il minimo che possa vivere e sono un officiali scunnizzo da questo momento. Grazie. Grazie. E come mi avete fatto sentire, nessun comune mortale lo può meritare. Grazie. Un amore viscerale tra questa città e i suoi cittadini e la squadra, ma l'avventura che abbiamo vissuto quest'anno è stata una straordinaria occasione per ricordare al mondo che Napoli è una città vincente. Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente del calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha improvvisato con spalletti un vivace scambio di battute. Questo applauso a Luciano, come tutti gli impegnanti che ci avete attribuiti, non sono meritati, sono strameritati. Un'unica cosa che adesso non ti sei fregato con le tue stesse mani, perché accettando questa cittadinanza ed essendosi legato non solo alla città di Napoli, ma al Napoli, ogni volta che noi avremo bisogno di una consulenza, di come fare, cosa fare, non si potrà applicare, quindi diventerà un permanente consultante e aiuto indenebile e assoluto per i quanti voi e per lui. Lui l'ha dedicata anche ai tifosi, giustamente i tifosi vanno sempre messi al primo posto, quindi ormai non potrà più tradirci. No, è sempre stato così. Nel senso che lui dice di venire dal cinema e poi stanno scienziamente per di mostra. E' come essere dentro un film horror, dove c'hai la scena di paura e speri che sia l'ultima che rimetti a posto tutto, sei lì con il pop-corno e la Coca-Cola e ti vedi. Ma certo, è finita, ora si sta a partire, boh, per me andrò addosso e mi lo esci, non so, perché ora pensavo invece che mi ha ricaricato. Grazie, Presidente. Nato a Certaldo, la città di Giovanni Boccaccio, Spalletti ha vinto quest'anno diversi premi come miglior allenatore della Serie A di calcio ed è attualmente il commissario tecnico della Nazionale Italiana. Credo che questa onorificenza voglia segnare il fortissimo legame umano che si è creato tra me e il popolo navoletano e onestamente è l'aspetto a cui tengo maggiormente. La proposta della cittadinanza Spalletti era stata approvata con voto unanime dal Consiglio Comunale nello scorso maggio, su mozione del consigliere Giorgio Longobardi. È stata un'idea che avevo pensato diversi giorni prima dell'ultima partita contro l'Udinese. Oltre ad avere il merito di aver riunito una città intera per la felicità di una vittoria, ci ha riuniti anche tutti all'interno del Consiglio Comunale. Un grande allenatore, un grande uomo meritava di essere cittadino napoletano. Io sono una poca avvezza agli abbracci ma gli ho chiesto di abbracciarlo. È stata un'emozione bellissima rivederlo qui tra di noi e oggi come ha detto lui sono uno scugnizzo napoletano. Io dico sempre sono un consigliere ma uno scugnizzo napoletano sempre. Potremmo dire che da oggi in poi Spalletti è veramente napoletano perché glielo abbiamo riconosciuto anche anagraficamente Coram Populo, tutto il Consiglio Comunale interpretando i cittadini napoletani. Quindi forza Napoli e bissiamo con un altro scudetto. Ci ha fatto vivere un'emozione fortissima dopo 33 anni. Ha riportato lo scudetto a Napoli e soprattutto ha dato un esempio di squadra composta di ragazzi giovani, di ragazzi provenienti da tutti i paesi del mondo, per lo più sconosciuti, che lui ha saputo amalgamare, allenare, motivare al punto tale da farli diventare la squadra più forte del campionato dell'anno scorso. Numero 21, Matteo Polità. Numero 81, Giacomo Raspadone. Numero 18, Giovanni Simeone. Numero 76, Mijak Velaschella. Numero 9, Vittorosime. Allenato, Luciano Spalletti. Forza Napoli sempre!